Un rapporto di Coldiretti mi ha molto colpito, ha mostrato che il rincorrersi di eventi estremi ha determinato e costato all'agricoltura italiana una perdita di oltre 14 miliardi. Parliamo di perdite delle produzioni agricole nazionali, danni alle strutture e alle infrastrutture delle campagne. Ecco, il piano nazionale di ripresa e resilienza servirà anche a questo, a rilanciare l'intero comparto. E noi dobbiamo accompagnare come governo la filiera agricola in questo processo di riconversione. Con la Ministra Bellanova stiamo lavorando e devo qui ringraziare ovviamente il Ministro Amendola che sta coordinando i lavori con grande efficacia, grande impegno e a dispetto di tutte le, anzi, le tensioni, anche le preoccupazioni che in questo momento ci sono, perché comprendiamo bene che fino a quando questo piano non sarà definito, giustamente ci siano anzi e tensioni, anche legittime, perché è una grande occasione storica per l'Italia, quindi è giusto che fino a quando non sarà definito, non sarà collettivamente condiviso, ci siano questi atteggiamenti. Fermo restando che, l'abbiamo detto sin dall'inizio e con il Ministro Amendola e tutti gli altri Ministri, siamo ben consapevoli, lo abbiamo detto, sarà un piano nazionale, non abbiamo assolutamente come governo una concezione padronale, non è che perché ci siamo battuti in Europa per ottenere queste risorse, riteniamo che siano nostre e debbano essere gestite con arbitrarietà da parte del governo o di qualche singolo Ministro, assolutamente no, queste risorse sono le risorse della comunità nazionale, sarà il piano nazionale e diremo di più, che resterà il piano nazionale, come abbiamo chiarito, anche in fase di attuazione e monitoraggio dell'attuazione. Quindi c'è un concetto centrale di cui non si ragiona molto in questi tempi, ma noi l'abbiamo già sottolineato, è un concetto, di solito si usa una parola inglese, accountability, accountability pubblica, significa che tutti i cittadini, non solo il Parlamento, non solo le parti sociali, non solo le associazioni di categoria, ma ogni singolo cittadino dovrà in qualsiasi momento poter controllare sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul sito ufficiale, ogni progetto, lo stato di avanzamento di ogni progetto e potrà verificare se per la realizzazione di quel progetto, di quegli investimenti pubblici destinati a noi tutti e anche alle future generazioni, quel progetto, quell'investimento sia o meno in ritardo, ci siano delle carenze nell'esecuzione o meno e questo è il miglior sistema a garanzia di tutti.